vai riprendo ora i pesi si vai faccio il sottolo allora 20 kg 20 kg e la spara prendo il metro vai reggimelo da zero 60 perfetto la spara non c'è il tape si può partire quando vuole ci sei? faccio partire il timer 5 4 3 2 1 vai 2 3 4 5 ok 6 7 8 buono 6 8 buono 6 8 buono 6 9 buono 6 buono 6 buono 6 buono 6 buono 6 buono 5 5 5 5 6 buono 6 buono 7 buono sul bode, scendi con tutti e due i piedi, scendi con tutti e due i piedi, vai! dai eh quattro cinque su buono buono, buono, buono dai eh dai bro, su dai uno due tre quattro cinque buono dai eh uno vai 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 vai, si vede dai due tre quattro cinque dai l'ultimo su buono sei dai eh dai su 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 uno due tre buono dai eh dai subito uno due due tre tre dai eh su uno dai due dai l'ultimo su su s due tutte e due si alla discesa si è alla discesa, è over quindi è a discesa si ma va bene va bene dai dai sei eh uno due tre tre quattro dai 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 sciogli sciogli subito dai cinque dai buono dai subito d'ambo stiamo a cinque minuti e mezzo dai 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 facciamo un po' subito dai dai su su uno due tre quattro cinque sei vai vai corsa su 5 su dai 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 manca 4 minuti su 1 2 3 4 5 dai manca 4 dai 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 3 minuti e mezzo dai l'ultimo i 4 andiamo dai 1 dai l'ultimo i 3 2 dai 3 dai l'ultimo su buono dai 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 bro su 1 2 3 4 5 6 7 8 dai l'ultimo buono dai scenario su dai 2 minuti e mezzo dai dai 1 2 2 3 vai 4 4 dai 5 su 5 dai 6 su 7 vai ora 8 dai l'ultimo dai su su buono 1 47 manca quindi 10 10 9